Buonasera, a nome di Cinema Zero benvenuti, sono Andrea Crozzoli, due parole prima di passare al nostro ospite che è Alessandro Mezzena-Lona, giornalista, scrittore, romanziere, è in Edicola appena arrivato un suo nuovo romanzo, il cambiamento e le riforme, i giornali hanno perso un po' il terreno. Il film di questa sera è del 1972, i racconti di Canterbury, ha vinto l'orso d'oro a Berlino, Pasolini era reduce dall'enorme successo del Decameron dell'anno prima, 1971, film che il Decameron era esploso ed era il secondo incasso della stagione, era addirittura prima dello 007 con il glorioso Sean Connery. Per cui questo film era molto atteso, era il produttore Grimaldi, ricordo Gian Vittorio Baldi che è stato produttore di Porcile e dell'Orestia di Africana, che un giorno mi ha raccontato come Pasolini, dopo essere stati negli Stati Uniti a fare anche i sopralluoghi per un film sulla vita di San Paolo, Pasolini lo chiama, lo invita a pranzo e gli dice guarda ho ricevuto una proposta che non posso rifiutare, Alberto Grimaldi gli ha chiesto di entrare nella sua scuderia per cui nel 71 esce il Decameron e poi tutti gli altri fino a Salò. Comunque adesso lascio la parola ad Alessandro che ci racconterà un po' di cose sul film che vediamo. Grazie. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Grazie Andrea Crozzoli e grazie a Cinema Zero che mi ha invitato questa sera qui. Per me è un grande piacere parlare di Pasolini in sala Pasolini e poi vedere tante persone che sono venute a vedere i racconti di Canterbury considerando che c'è questa contemporanea di tre sale piene per il debutto del film di Battiston per cui grazie di essere qui. Devo dire che per me è stata un po' un regalo questa richiesta appunto di venire a presentare i racconti di Canterbury alcuni anni fa pre-covid avevamo fatto altre cose a Casarsa ma di farlo qui a Pordenone perché racconti di Canterbury è un film particolarissimo, un film strano se volete, un film che qualcuno ha detto anche poco pasoliniano ma che invece a leggerlo diciamo con grande vicinanza, con grande attenzione è un film secondo me che rivela tantissime cose molto interessanti. Io vi darò alcuni dati giusto per ricordarvi ciò di cui stiamo parlando e poi entriamo nel vivo, ovviamente non vi racconto il film perché sarebbe una follia ma vi racconterò alcune cose laterali che stanno dietro al film che secondo me sono molto interessanti. Allora intanto Pasolini comincia a fare le riprese, a girare i racconti di Canterbury tra il settembre e il novembre del 1971, poi il film uscirà in anteprima appunto al Festival di Berlino il 2 luglio dove devo dire contro tutti i pronostici vincerà l'orso d'oro ma pensate che c'è un retroscena che raccontava il direttore esecutivo diciamo della produzione che era Fabio Cone che dopo la proiezione per la critica lui stesso andò da Pasolini con una faccia da funerale, nel senso che durante la proiezione per la critica il film durava due ore e venti moltissime persone si stavano alzando, andavano, tornavano, sbuffavano, commentavano a mezza voce e Pasolini stava facendo una quantità di interviste impressionanti perché era molto atteso a Berlino anche perché Decameron ovviamente aveva avuto un grande successo e Ocone gli dice guarda dobbiamo mettere mano al film, cioè non può andare alla proiezione di Gala in queste condizioni, cioè ti impallinano insomma e Pasolini lo ha guardato un po' così un po' stranito e dice va bene mettiamoci al lavoro racconta Ocone che l'unica moviola che era a disposizione in quel momento a Berlino era una moviola in legno del 1939 quindi potete immaginare come sono intervenuti su questa pellicola togliendo 20 minuti e il film poi ha avuto il successo pazzesco che ha avuto perché appunto ha vinto l'orso d'oro anche se lo stesso Pasolini ha sempre detto che della trilogia della vita era forse il film che lo convinceva di meno un film peraltro, dicevamo anche prima con Andrea, con un gruppo di collaboratori stellare perché pensate che aveva degli colli alla fotografia, aveva Dante Ferretti, aveva Moricone e il gran degno Moricone che aveva aiutato Pasolini perché Pasolini si vantava di aver creato lui la colonna sonora ed era in parte vero perché lui era tornato dall'Inghilterra con una marea di dischi, di canti popolari di vecchi canti inglesi, scozzesi ma poi ovviamente Moricone l'ha aiutato a creare quella che era l'armonizzazione di questi canti che vedrete poi gli attori cantano loro stessi l'altra cosa un po' curiosa del film è che Pasolini fa doppiare gli attori ma la cosa curiosa, interessante, è che per esempio a un certo punto voi probabilmente vi renderete conto solo se state molto attenti perché ha una leggera inflessione napoletana ma nella parte del vecchio, che vedrete uno degli ultimi racconti proprio degli otto che Pasolini ha sceneggiato e poi diretto a un certo punto il vecchio parla con la voce di Edoardo De Filippo ma non lo sa praticamente nessuno perché non ci si accorge cioè Edoardo in quel caso non è l'Edoardo del teatro che parlava appunto con questa pronuncia molto pesante era un attore vero come nell'ultimissimo episodio proprio quello del frate che poi finisce all'inferno il frate viene doppiato da Marco Bellocchio e anche lì appunto lo trovate solo se andate attentamente a vedere quelli che oggi si chiamano con un termine inglese i credits del film vi dico due parole del perché Pasolini decide di fare i racconti canterburi allora intanto i racconti canterburi credo che lo sapete anche voi viene scritto da Geoffrey Chaucer che è considerato come il nostro Dante Alighieri cioè il padre della lingua inglese ma c'è una differenza sostanziale con Dante e anche con Boccaccio Pasolini lo fa notare subito in tutte le interviste quando gli chiedono ma perché hai scelto questo testo e lui dice perché Chaucer raccontava a differenza del Boccaccio e del Camerone raccontava un mondo visto perché Chaucer entra giovanissimo è figlio di una famiglia di ricchi mercanti di vino ed entra subito alla corte alla corte del re inglese insomma che quella volta se non ricordo male era Edoardo III e quindi racconta un mondo completamente diverso da quello di Pasolini ma Pasolini lo trova molto interessante perché il fatto che una persona ricca che fa parte comunque del mondo nobiliare anche se lui non era nobile ma lavorava appunto alla corte racconti in questo modo la società inglese di quegli anni del medioevo del 1300 Pasolini lo trovava molto interessante perché? perché diceva è facile fare un film politico quando tu già sai che cosa il regista vuole dirti cioè che cosa il regista vuole raccontare e quindi qual è la deriva politica che vuole seguire più difficile diceva è fare un film in cui la condanna per esempio della ricchezza dell'esercizio del potere della violenza nei confronti della donna vedrete il primo episodio con questo ricco ricchissimo uomo vecchio che sposa che sposa tra l'altro la Chaplin la Josephine Chaplin questa bellissima May maggio come è nella traduzione italiana e che è un personaggio di una volgarità incredibile fa schifo continua a ridere deride deride tutti e poi ovviamente come vedrete nel racconto a un certo punto il destino anche lo punisce quindi Pasolini trovava estremamente affascinante il fatto di poter raccontare un proletariato una casta diciamo dei ricchi commercianti il potere soprattutto in un modo estremamente libero estremamente vivo infatti lui diceva sempre di questo film è un film metalinguistico che cosa significa? che è un film fatto con il film cioè un film che racconta il film in sostanza e quindi non è un film che ha un retro pensiero politico come era Porcile come era Teorema come erano tanti altri film di Pasolini lo stesso Accattone che aveva un filo logico diciamo un filo politico ben preciso di racconto della storia ci sono delle cose curiosissime andando a spulciare poi anche nelle interviste di Pasolini che riguardano questo film alcune ve le ho già dette un'altra è per esempio lo vedrete nell'episodio in cui è protagonista Ninetto Davoli in cui c'è un omaggio sfacciatissimo a Charlie Chaplin a Charlotte Ninetto Davoli cammina come Charlotte ha il cappello e la bombetta in testa ha il bastone in mano quindi è proprio ma perché Pasolini diceva è voluto c'era un episodio volutamente farsesco proprio per richiamarsi al cinema di quegli anni c'è un episodio che a me ha fatto impazzire perché mi ha fatto lavorare su questa storia quasi una settimana che compare non so se a voi è capitato tra le mani un volumone che si titola Tutto a Pasolini è uscito l'anno scorso in questo volumone un professore un esperto di Pasolini racconta i racconti di Canterbury e che cosa racconta? racconta che Pasolini va a Londra per fare i sopralluoghi perché il film è stato girato interamente in Inghilterra eccetto poi vi racconterò la parte finale l'ultimo racconto Ritorna all'Etna che c'era già nel Vangelo secondo Matteo in Porcile in Teorema quindi era uno dei luoghi pasoliniani preferiti ma lui ha dovuto passare diverse settimane a Londra e girando per le strade come sapete in quegli anni Pasolini cercava di affrancare agli attori c'è Laura Betti c'è Franco Citi c'è appunto Ninetto Davoli ma cercava anche delle facce che non fossero attori professionisti un giorno va al famoso quello che si chiama speech corner a Londra dove una volta adesso purtroppo non si fa più le persone salivano su una cassetta della frutta o una specie di ripiano in legno e andavano a parlare ad arringare le persone che passavano di là che si fermavano ad ascoltarli con le loro idee cioè ognuno aveva il diritto di dire anche delle stupidaggini incredibili ma questo angolo era riservato proprio alle persone che volevano dire le loro idee e lui vede un uomo con una faccia dice interessantissima e si ferma ad ascoltarlo e questo fa tutto un discorso di tipo apocalittico sul futuro dell'umanità e alla fine Pasolini va vicino e gli chiede appunto come mai lui è lì e questo con un'aria molto guascona gli risponde ma lei non sa chi sono io io sono l'ex autista di Al Capone Al Capone credo non occorrei che vi dico che è stato uno dei personaggi leggendari diciamo di Cosa Nostra della mafia americana e Pasolini dice ma lei farebbe una parte per me in un film sai io sto pensando di girare dei racconti di Canterbury e questo dice sì molto volentieri questo signore lo troverete anche nel se vi fermate poi a guardare i titoli di coda si chiamava George Dutch ed è un personaggio di cui non si sa assolutamente niente e se voi potete cercare per mesi in internet io l'ho fatto per quasi una settimana e poi mi sono rivolto agli specialisti per vedere se loro saperanno qualcosa di più e loro hanno ringraziato me dicendomi guarda a parte questo racconto che poi è un bellissimo libro che era stato curato da Laura Betti dove ci sono moltissime dichiarazioni di Pasolini dice a parte quello io non so niente allora il giornalista che cosa fa va alla ricerca di quelli che sono stati gli ex autisti di Al Capone e che cosa salta fuori salta fuori che Al Capone ha avuto due autisti ma questo signore non c'era uno di questi autisti tra l'altro a sua volta diventa poi un boss della mafia ed è sospettato di aver fatto da tramite diciamo nell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy di aver fatto da tramite tra la cosa nostra la mafia americana l'FBI e questa oscura organizzazione poi che ha ammazzato sia Kennedy che poi l'assassino di Kennedy questo signore poi finisce ammazzato ma il nome non corrisponde perché non si chiama non si chiama George Dutch poi c'è un altro ex autista di Al Capone a cui viene dedicato anche un romanzo che è uscito alcuni anni fa che si intitola proprio l'autista di Al Capone ma questo signore a un certo punto deve scappare in Sicilia perché perché ha fatto la spia e quindi se la vede brutta diciamo con la mafia americana e deve tornare in Italia questo signore si chiamava Charles Jacobi e non c'entra niente appunto allora io mi chiedo siccome sappiamo che molti registi diciamo romanzavano un po' questo signore questo George Dutch di cui dopo i racconti Carterbury si perdono completamente le tracce era veramente l'ex autista di Al Capone o ha infinocchiato lui Pasolini raccontandogli quella storia o è stato Pasolini stesso che ha inventato questa storia che io trovo strepitosa perché voi vedrete la faccia di questo uomo una faccia che vi resta nella memoria e che quindi ha raccontato questa storia per creare un'aura diciamo un po' più mitica attorno al film vi dico ancora due cose che sono come la critica ha accolto questo film dicevo prima Andrea che rileggendo i pareri oggi della critica viene da vergognarsi tante volte per i critici stessi perché per esempio Goffredo Forfi che è un grandissimo intellettuale che io stimo moltissimo e che ha scritto delle cose meravigliose esce su quaderni piacentini parlando del film di Pasolini dicendo mi dispiace ma questo film è una nullità senza aver capito assolutamente niente della trasposizione Pasolini ha nei racconti di Canterbury Tullio Kezzi stava un po' più in equilibrio dicendo quelli che erano i pregi del film e quelli che erano i difetti Giovanni Grazzini fa un errore secondo me clamoroso ma la imbrocca almeno in un senso diciamo sbaglia dicendo la critica sarà feroce con Pasolini e infatti pochi giorni dopo vince l'orso d'oro a Berlino però indovina una cosa interessante quando dice il film avrà un grande successo di pubblico e infatti poi sapete che Pasolini si è lamentato più volte anche nelle interviste perché il film ha avuto moltissimi imitatori nella commedia l'italiana citazioni appunto di alcune scene soprattutto bisogna dire che la trilogia della vita come la chiamava Pasolini ha in qualche maniera aperto a questa esposizione dei corpi nudi che quella volta facevano ancora uno scandalo incredibile ma mentre Pasolini li usava come una sfida diciamo una sfida a una società che lui definiva bigotta una società chiusa a una società ormai corrotta dal consumismo da quello che era quello che lui diceva un potere peggiore del fascismo a quello che era la livellamento della tv diciamo della mentalità che la tv imponeva già in quegli anni all'Italia e invece ovviamente il cinema italiano poi succhia queste cose a Pasolini per produrre alcuni filmacci diciamo di serie B di cui lui povero si lamenterà sempre perché dirà a me mi hanno fatto quattro querele e ho dovuto difendermi in tribunale questi film passano alla censura senza nessun problema e quindi appunto questo per dire quanto il film d'autore quella volta non veniva assolutamente protetto a differenza per esempio di quello che accadeva in Francia dove i registi erano sempre molto tutelati vi saluto ancora raccontandovi una cosa a cui accennavo prima che quella dell'Etna e perché è una cosa caratteristica dei film di Pasolini voi vedrete che il film è un film molto hilare in qualche modo cioè quasi tutti i personaggi hanno una maschera grottesca il potere viene preso in giro in tutti i modi possibili immaginabili la ricchezza viene mostrata come appunto quella che riesce a corrompere non solo i laici ma la chiesa l'inquisitore i fratti e appunto proprio nel finale c'è questo bellissimo episodio che Pasolini ha preso da Chaucer dai racconti di Canterbury che gli è costata la prima delle querele fatta proprio da un fratte perché a un certo punto c'è questa scena dell'inferno che ricorda moltissimo i quadri di Bosch tra l'altro perché è un inferno molto iperrealista molto grottesco e a un certo punto dall'ano diciamo dei diavoli vengono espulsi come se fossero degli escrementi i fratti e la prima querela che si è preso Pasolini era proprio da un fratte da un fratte di un convento che diceva io mi sento per tutti noi profondamente offeso perché non capisco perché Pasolini appunto ha deciso di dipingere e di raccontare i fratti in questo modo qui ma evidentemente non aveva capito il film e non aveva capito che cosa Pasolini ovviamente imputava alla Chiesa Cattolica e all'inquisitore dell'altro episodio che vedrete la cosa più curiosa di queste denunce è che il primo che denuncia Pasolini è un signore un medico di Benevento appena uscito il film proprio il giorno che esce il film lui va dal magistrato a presentare una querela e la cosa divertente è che dice io non mi sono sentito offeso dal film anzi secondo me il film non è affatto né volgare né pornografico però secondo me va denunciato perché è un film che creerà scandalo e quindi io ovviamente potete immaginare che il magistrato in quel caso ha archiviato immediatamente non ha chiamato neanche Pasolini però lui si è dovuto difendere appunto da ben quattro denunce da cui è uscito sempre assolto ma il film è stato anche per un periodo anche sotto sequestro quindi non poteva essere proiettato l'Etna vi dicevo l'Etna della scena finale questa scena bosciana che ricorda il giudizio universale di Bosch appunto nell'inferno è girata sull'Etna perché c'è anche un libro che racconta proprio Pasolini e il rapporto con l'Etna perché Pasolini era rimasto affascinatissimo da questa voi non so se siete mai stati sull'Etna c'è questa questa valle fatta completamente di lava che sembra veramente un altro mondo e lui quattro dei suoi film si concludono lì cioè l'Evangelo secondo Matteo come ho detto prima Porcile Teorema e i racconti di Canterbury perché lui trovava enormemente suggestivo questo diciamo questo mondo in cui non c'è più niente cioè non c'è più vegetazione non ci sono case non c'è presenza umana e la cosa interessante però che i racconti di Canterbury rovescia il finale di Teorema se ricordate il finale di Teorema c'è questo personaggio del padre che vaga urlando appunto in questo deserto di lava nei racconti di Canterbury invece c'è questa scena assurda in cui i diavoli ridono sghignazzano prendono in giro appunto quelli che finiscono all'inferno ma è una scena molto poco apocalittica perché come diceva come dice e lo vedrete la sequenza finale proprio c'è Pasolini Jeffrey Choser perché lui interpreta proprio lo scrittore che scrive il finale e scrive qui finisce i racconti di Carterbury di Jeffrey Choser un film mi ricordo un libro un film mi ricordo cosa scrive esattamente che è stato fatto solo per divertirsi Amen e quindi anche lì con questo finale lui vi dice quello che voleva dire in tutto il film insomma ecco io mi fermerei qui perché non voglio annoiarvi vi auguro una magnifica visione e spero che appunto il film vi colpisca come colpisce me ogni volta che lo riguardo grazie buona serata grazie buon film grazie 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 grazie